Il sottosegretario di Stato all'Interno, Nicola Molteni, ha partecipato oggi all'Aquila al Memorial Day 2024, organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia e il Zappa, in occasione del 32esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Occasione per fare il punto con il sottosegretario sulla situazione degli agenti in servizio, spesso vittime di aggressione, ma anche sugli investimenti per quel che riguarda il personale. Il Governo mette la sicurezza, in modo particolare il Ministro Piantiotti sta mettendo la sicurezza come priorità dell'agenda di Governo, dobbiamo garantire sicurezza ai cittadini e per garantire sicurezza ai cittadini dobbiamo mettere le nostre forze di polizia nelle condizioni di operare al meglio. Io dico sempre che la polizia italiana è la migliore al mondo per competenza, professionalità, senso del dovere, stiamo lavorando da un lato per rafforzare gli organici, sono stati tagli nel passato che hanno indebolito fortemente la polizia di Stato, questo Governo non fa né tagli né chiusure, ma va in una doppia direzione, diciamo, da un lato quella di rafforzare gli organici, abbiamo appena aperto il tavolo sindacale per il rinnovo del contratto e poi dobbiamo rafforzare anche la normativa a tutela degli operatori delle forze di polizia. Troppe aggressioni, dobbiamo ristabilire due principi, onore e rispetto nei confronti di chi indossa una divisa. I lavori sono stati introdotti da Stefano Paoloni, segretario generale SAP, e da Claudia Pace, segretario provinciale, una giornata per ribadire i valori che caratterizzano l'operato delle forze dell'ordine, che spesso sacrificano la loro vita durante il lavoro a servizio della sicurezza del Paese, vittime spesso silenziose delle quali non si parla. Il momento di dibattito si è rivolto principalmente ai ragazzi delle scuole cittadine. Noi tutti gli anni, il mese di maggio, in coincidenza con la strage di Capaci, organizziamo eventi come questo proprio per non dimenticare, per ricordare chi ha sacrificato la vita per la tutela della legalità, la democrazia del Paese. Quest'anno all'Aquila abbiamo particolarmente voluto, e devo dire che abbiamo avuto una risposta meravigliosa da parte di tutte le scuole, purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di accoglierli tutti, però i giovani devono sapere quello che facciamo e soprattutto devono capire che il sacrificio di tante persone morte sono morte per noi, per dei valori che loro devono conoscere. Quindi quest'anno ci siamo rivolti un po' a tutti, ma in particolare ai giovani, ai giovani del territorio aquilano.